Leo Cuzzolino Leo Cuzzolino Leo Cuzzolino Leo Cuzzolino di parlare italiano anche perché sono i brasiliani, quindi non cerchiamo di parlare la nostra lingua, dentro lo spogliatoio e dentro il campo cerchiamo sempre di parlare italiano perché siamo in Italia ma soprattutto perché ci stanno gli altri ragazzi e dobbiamo farci capire, anche se tra di noi magari parliamo lo spagnolo, è normale, ma il rispetto soprattutto per la società, per l'Italia e per i compagni che non riescono a capire. Grazie